Capitolo 5. Indovinelli nell'oscurità. Quando Bilbo riaprì gli occhi, si domandò se li avesse davvero aperti. Infatti, il buio non era meno fitto di quando li teneva chiusi. Non c'era nessuno vicino a lui. Immaginate che paura! Non poteva udire niente, vedere niente e sentire niente tranne il suolo roccioso. Molto lentamente si mise a carponi e andò attorno barcollando, finché toccò la parete della galleria, ma non pote scoprire niente, né sopra né sotto. Niente di niente, nessuna traccia degli orchi, nessuna traccia dei nani. La testa gli girava ed era ben lontano dal sapere con un minimo di sicurezza in quale direzione stessero andando quando era accaduto. Tirò a indovinare e avanzò strisciando per un po', finché improvvisamente la mano andò a sfiorare, per caso qualcosa che al tatto sembrava un sottile anello di metallo freddo, adagiato sul fondo della galleria. Bilbo era a un punto cruciale della sua vita, ma non lo sapeva. Si mise in tasca d'anello quasi senza pensarci. In quel momento sembrava che non potesse servire a niente di particolare. Non andò molto avanti, ma si sedette sul pavimento freddo, abbandonandosi al più completo sconforto. Pensò al bilbo che friggeva uova nella sua bella cucina a casa, perché poteva sentire dentro di sé che era ampiamente ora di mangiare qualcosa. Ma questo lo rese soltanto più infelice. Non riusciva a pensare al da farsi, né tantomeno era in grado di pensare a quanto era successo, o perché fosse stato abbandonato, o perché se era stato abbandonato gli orchi non l'avessero catturato e nemmeno perché la testa gli facesse tanto male. La verità è che era rimasto a lungo steso per terra e immobile, in un angolo buio, invisibile e svenuto. Dopo un po' cercò a tastoni la pipa. Non si era rotta e questa era una bella cosa. Poi cercò la borsa dell'erba pipa e ce n'era ancora un po', e questa era una cosa ancora più bella. Poi cercò dei fiammiferi, ma non riuscì a trovarne neanche uno e ciò infranse completamente le sue speranze. Meglio così, avrebbe riconosciuto una volta ripresi del tutto i sensi, perché solo il cielo sapeva cosa la fiammella dei fiammiferi e l'odore dell'erba pipa gli avrebbero tirato addosso. In quel momento tuttavia si sentì distrutto, ma nel buttare all'aria le tasche e nel tastarsi del tutto cercando i fiammiferi, la mano gli era capitata sull'elsa della piccola spada e il pugnale che aveva preso ai troll di cui si era quasi dimenticato. Per fortuna gli orchi non se ne erano accorti perché la portava sotto le brache, la sguainò facendola luccicare fiocamente davanti ai suoi occhi. Dunque anche questa è una lama elfica, penso. E gli orchi non sono molto vicini, anche se non sono lontani abbastanza, ma si era un po' rincuorato. Cingere una lama forgiata a gondolin per le guerre contro gli orchi di cui i canzoni avevano cantato era una cosa che dava prestigio. Ed egli si era anche accorto che quel tipo di armi aveva fatto una grande impressione agli orchi. Tornare indietro, penso, neanche per sogno. Andare di lato è impossibile. Andare avanti è la sola cosa da fare. Dunque in marcia. Così si alzò e trotterellò, con la piccola spada sguainata davanti a sé, con una mano tastando la parete e con il cuore che era tutto un tambureggiare. Bilbo si trovava ora in quella che viene propriamente chiamata una strettoia. Dovete ricordare che per lui non era proprio così stretta come lo sarebbe stata per me o per voi. Gli hobbit sono non esattamente simili alla gente normale. E dopo tutto, anche se le loro caverne sono bei posti, allegri e ben arieggiati, molto diversi dalle gallerie degli orchi, essi sono molto più avvezzi di noi a scavare gallerie e non perdono facilmente il senso dell'orientamento sottoterra. Non quando la testa si è rimessa da quella botta. Sanno muoversi molto silenziosamente e rimettersi in modo fantastico da cadute e contusioni. Inoltre hanno una riserva di saggezza e proverbi di cui gli uomini perlopiù non hanno mai sentito parlare o di cui si sono dimenticati da molto tempo. Ciò non di meno non mi sarebbe piaciuto trovarmi nei panni del signor Baggins. Pareva che la galleria non avesse mai fine. Bilbo sapeva solo che continuava a scendere sempre nella stessa direzione nonostante una curva o due. Ogni tanto sui fianchi della roccia si aprivano dei passaggi laterali, come capiva dal luccichio della spada o sentiva toccando la parete. Non li prese mai in considerazione se non per affrettarsi a superarli, temendo che potesse venirne fuori qualche orco o altre cose oscure più o meno immaginarie. Continuò ad avanzare e a scendere sempre di più e ancora non udiva alcun rumore, eccetto qualche frullo di pipistrello che gli passava vicino alle orecchie, che all'inizio lo aveva spaventato, ma poi era diventato troppo frequente per preoccuparsene. Non so per quanto tempo andò avanti così, detestando di dover procedere in quel modo, ma non osando fermarsi. Avanti e avanti finché fu più stanco che mai. Sembrava che dovesse continuare così fino all'infinito. A un atto senza il minimo preavviso si trovò a trotterellare con i piedi nell'acqua. Ed era ghiacciata. Questo lo fece bloccare di botto. Non capiva se fosse solo una pozza sul suo cammino o la sponda di un ruscello sotterraneo che attraversava il passaggio, o la sponda di un lago sotterraneo scuro e profondo. La spada non brillava quasi per niente. Aguzzando le orecchie udì delle gocce che cadevano da una volta invisibile nell'acqua sottostante. Nessun altro rumore era percepibile. Dunque è una pozza o un lago e non un fiume sotterraneo, pensò. Ma non osò avventurarsi nel buio. Non sapeva nuotare e gli vennero subito in mente quelle viscide cose ripugnanti dai grandi occhi sporgenti e ciechi che si muovono torcendosi nell'acqua. Esseri strani abitano pozze e laghi nel cuore delle montagne. Pesci i cui antenati nuotarono fin lì e solo il cielo sa quanti anni fa e non ne uscirono più fuori mentre i loro occhi diventavano sempre più grandi cercando di vedere in quel buio nero come la pece. E altri esseri ancora più viscidi dei pesci. Perfino nelle gallerie e nelle caverne che gli orchi si erano scavati per sé si muovevano creature che vi abitavano a loro insaputa, strisciate lì di nascosto e acquattate nel buio. Alcune di quelle grotte risalivano anch'esse a epoche anteriori agli orchi, i quali si erano limitati ad allargare e a collegarle con numerosi passaggi. E gli antichi proprietari stanno ancora lì in strani recessi dove si aggirano furtivi e curiosi.